Signori qui riuniti, che vi preparate a sognare nelle sale cinematografiche e visioni di altri, assisterete qui a visioni che somigliano a sogni. In questo francesissimo giardino ci parleranno stanotte gli uccelli. Parleranno sognando come parlano gli animali volanti che proteggono, curano, vegliano la terra. Dicono della battaglia che la terra sempre combatte, che continua ancora oggi, tra vita e morte, salvezza e catastrofe. Sentirete parlare una civetta, assisterete a danze misteriose, succederanno cose molto strane, non si può dire tutto in una volta. Ma cercate di intendere la lingua di coloro che volano nel cielo, vogliono raccontarvi questa storia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.